Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per lavori tra Sassomarconi e Via 1 Variante in direzione sud. Sempre in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze e Sud e in Cisareggello. Verso Bologna, rallentamenti per traffico tra Via 1 Variante e Aglio. Ci spostiamo in A11 per incidente, due chilometri di coda e traffico bloccato verso Firenze tra B11 raccordo a 12 e B11 raccordo Lucca-Viareggio. Uno sguardo al traffico ferroviario ricordiamo che fino al 17 è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che interessa il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia, T-Per. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata e rallentamenti per incidente in Piazza della Libertà. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.